Ciao a tutti da Maurizio, benvenuti a Recensito. È un grande onore oggi ospitare qua con noi lei, ovvero Clover Crossover 4WP Airbag. A mio parere un best seller, uno dei prodotti più interessanti della sua categoria, ovvero giacche, quattro stagioni, crossover, touring, adatte davvero tutto l'anno, non ha paura di nessun tempo, quindi nessuna temperatura, ma anche di nessuna avversità meteorologica. Perché? Adesso andiamo ad analizzare e a capire com'è fatta, quindi ricordiamo Crossover 4WP Airbag, prodotto che abbiamo già conosciuto, l'abbiamo analizzato negli anni, l'abbiamo vista crescere, è ancora più migliorata, è molto più areata, poi andremo a vederlo, ed ha davvero dei particolari molto molto interessanti. Dicevamo, prodotto veramente quattro stagioni. Perché veramente quattro stagioni? Perché ha tessuto laminato, quindi il tessuto laminato è accoppiato al tessuto esterno, quindi siamo sicuri che non si appesantisce, non si inzuppa, rimane comunque molto asciutta, però in più abbiamo anche la membrana all'interno, quindi davvero a prova di acqua, perché altrimenti solitamente troviamo o il tessuto laminato o la membrana. In questo caso abbiamo tessuto laminato, membrana e poi più o meno sintetico, uno dei prodotti più caldi a mio parere in commercio. Ho disegnato anche qua la giacca per renderla un po' più chiara e cosa andiamo a vedere? Intanto più il 50% di areazione, l'abbiamo sulle maniche, poi sul petto e anche nella parte posteriore, ma andiamo a vederla. Intanto partiamo come sempre dall'alto per andare ad analizzarla. Collo molto morbido, tra l'altro se andiamo a togliere il piumino sintetico e la membrana poi cosa troviamo? Una bellissima e ampia imbottitura neoprene che mi rende molto confortevole il viaggio, anche se come diciamo sempre utilizzo l'interfono e quindi muovo la glottide. Regolazione del collo micrometrica, quindi possibilità di regolarla come meglio credo. Poi guardate come sempre, cloverci abituato, cura del dettaglio, cerniera YKK molto resistente. Andiamo ad aprirla e arriviamo all'interno. Anche in questo caso, Nicolò mi segue nella parte bassa, abbiamo il velcro che mi permette di chiuderla e arriviamo alla prima parte, ovvero vado ad aprire la parte esterna dove abbiamo, lo abbiamo detto, la membrana accoppiata proprio al tessuto. Arriviamo poi alla membrana invece che tra l'altro vive di vita propria perché guardate, se la vado a staccare, vedete come è ben rifinita, poi la faremo vedere, può essere anche indossata sopra la giacca. Nonostante questo, spesso quando abbiamo queste giacche che si possono comporre, quindi la parte interna può andare all'esterno, la sensazione quando l'abbiamo indossata è sempre di non essere perfettissima, comunque ovviamente il volume interno deve essere un po' maggiore per poi andare a coprire anche il volume della giacca esterna. In questo caso invece è davvero perfettissima. Quindi vive di vita propria, arrivo in moto, la voglio togliere, la uso per camminare o passeggiare, è davvero un bel prodotto e posso usarla anche nel tempo libero, anche se arrivo per esempio in moto in un villaggio, in un campeggio. Se invece piove, non voglio bagnare la giacca, la posso mettere all'esterno, quindi davvero perfetta. Se andiamo ad aprire poi la nostra membrana, guardate quanto velcro, si chiude davvero molto bene e facilmente. Arriviamo, guardate in questo caso poi abbiamo anche la paratia che mi permette di riparare dal freddo, quindi davvero non passa aria, non passa freddo. Arriviamo poi alla imbottitura, anche in questo caso abbiamo la cerniera, nella parte alta, doppia cerniera e andiamo, intanto ve la vado ad aprire, vediamo, eccola qua, abbiamo la nostra bella imbottitura che soprattutto è double face perché vedete, adesso ve la mostrano meglio, si può rovesciare e usare come un piumino sintetico, ma andiamo a descrivere la parte esterna così poi ci addentriamo all'interno mettendola sul tavolo. Allora, molto areata, davvero una delle giacche più fresche che ci sono in commercio, ovviamente abbiamo una giacca con membrana, devo renderla più areata possibile perché altrimenti è un po' più calda delle giacche senza membrana coppiata. Guardate, molto ampia la porzione superiore e poi molto ampia la porzione inferiore, tra l'altro posso staccarla completamente e la tasca, come abbiamo visto anche su modelli passati, posso rimuoverla, staccarla completamente e posizionarla sul fianco. In questo caso quindi non ho problemi di differenza di capacità di trasporto, quindi posso comunque riporre degli oggetti, non so dove mettere le tasche, facilmente le metto qua sui fianchi. Guardate, si agganciano con gli automatici nella parte bassa, poi ci sono degli altri automatici qua nella parte più alta, poi andiamo a vederli meglio e qua nascosta c'è anche la cerniera. Davvero idea geniale. Intanto stacchiamo questa tasca così ve la faccio vedere meglio, anche se le abbiamo anche distribuite qua sul tavolo, eccola qua. La tasca posso toglierla, come vedete, agli automatici e vado a riporla sui fianchi. Geniale. Poi dicevamo tasche inferiori molto capienti, come potete vedere hanno anche il soffietto, quindi ci sta davvero di tutto, velcro per chiuderle. Poi dicevamo regolazioni sui fianchi molto ampie e anche sulle braccia. Sui fianchi poi avremo anche la regolazione con l'elastico nella parte inferiore. Grande ergonomia, grazie anche a questi soffietti sui gomiti e poi sulle scapole. È una giacca che è studiata sicuramente con il paraschiena, infatti la indosso con il paraschiena ed è perfetta. Poi abbiamo una grande superficie areata nella parte posteriore, tra l'altro che si può anche in questo caso personalizzare, perché come vedete dagli automatici io posso decidere se bloccarla in questo modo, vedete, media, oppure scendere ancora di più e bloccarla totalmente aperta. Davvero guardate quanta superficie areata ho, davvero una giacca freschissima. Per quanto riguarda la parte posteriore abbiamo un'altra cosa molto interessante, ovvero il tascone, idea geniale, si può staccare e diventa un comodissimo marsupio. Vedete che ha la fettuccia per trasformarla in marsupio. Brava Clover, questa è un'ottima idea per aumentare la praticità del prodotto. Ma andiamo a metterla sul tavolo. Infatti oggi abbiamo un manichino che ondeggia molto, quindi siamo più comodi sul tavolo. Intanto è caduta la tasca, ma poi la andiamo a riprendere. Ecco, cosa troviamo all'interno? Più o meno, ve l'avevo detto, più o meno sintetico con due tasche, molto bello. Tra l'altro si può staccare e, l'abbiamo detto, double fast, quindi vive di vita propria. Per quanto riguarda la membrana, anche lei, vedete, posso staccarla con gli automatici sulle maniche, due cerniere, la metto sopra la giacca oppure posso andarci comodamente in giro. Per quanto riguarda le altre tasche, eccolo qua, 12 tasche, pensate a questo prodotto, più tasca posteriore l'abbiamo descritta. Abbiamo anche le tasche Napoleone, anzi su questo lato, guardatela qua, eccola qua. Tasca Napoleone sulla parte esterna e poi invece sulla parte interna sull'altro lato, perché l'ho vista, eccola qua, ce l'abbiamo anche sulla sua membrana. Quindi vado in giro solo con la membrana, ho una bella taschettina comoda, perché ovviamente esternamente non ho tasche. Regolazione inferiore, l'avevo detto, eccola qua. Abbiamo questo tipo di regolazione e poi abbiamo la possibilità anche di agganciare il pantalone. Altra cosa molto interessante per quanto riguarda le protezioni e la sicurezza, possiamo installare un paraschina lungo, quindi brava Clover, che in molte giacche anche dalla concorrenza ho la possibilità soltanto di un paraschina medio, quindi in questo caso invece andiamo a coprire tutta la colonna vertebrale. Per quanto riguarda le protezioni abbiamo, e questo le faccio sempre vedere, adesso cerchiamo se riesco a smembrarla. E tra l'altro, ecco, nello smembrare cosa dobbiamo notare? Dobbiamo notare le prese d'aria sulle maniche, davvero molto ampie, guardate. E poi, come potete ben vedere, ho la possibilità di regolare con il velcro la larghezza della manica e poi ho la possibilità di chiudere e di aprire la mia presa d'aria e di regolarmela come meglio credo e di bloccarla poi con il velcro. Bravissima Clover. Dicevamo, protezione, vediamo se riesco a smembrarla in un tempo abbastanza veloce, così vi faccio vedere le protezioni, perché ultimamente le mostro sempre, quindi ci tengo anche per questo prodotto, perché abbiamo protezione di livello 2, tra l'altro areate. Guardate che bel prodottino che ha inserito, guardate, a tela di ragno, davvero un prodotto interessante, molto areato, quindi anche in questo caso un passo in più verso il comfort e il livello 2, l'abbiamo visto. Eccolo qua, lo faccio vedere anche a Nicolò se riesce a inquadrarlo. Bellissima protezione, molto morbida, ma avvolge anche bene. Dicevamo, 100% waterproof, quindi resiste davvero bene al freddo, al vento. In particolare questa giacca l'abbiamo provata, come vedrete poi nella scheda corredo, con la Honda Africa Twin 1100, che comunque protegge bene. In questo caso le temperature ne sono di circa 8-9 gradi, però vi garantisco, come anche i prodotti che l'hanno preceduta, davvero non teme il freddo, quindi in questo caso purtroppo nel periodo in cui l'abbiamo testata non faceva freddissimo, ma sono sicuro che anche provandola a 0 gradi questo è un prodotto che vi terrà molto caldo, perché anche le sue sorelle passate erano dei capi davvero incredibili per tenuta a freddo e all'acqua. Tascone e marsupia l'abbiamo detto, ecco, optional, arriviamo a degli optional molto interessanti. Intanto parliamo sempre di sicurezza e vi diciamo sempre di indossare il paraschiena o l'airbag. Paraschiena lungo, quindi va a coprire tutta la colonna vertebrale, in questo caso livello 2, brava Clover, livello 2 possiamo averlo così, da inserire all'interno della giacca nel tascone e quindi va, vedete, a coprire praticamente tutta la colonna vertebrale e poi possiamo anche averlo quello con le bretelle. Il mio consiglio è quello con le bretelle per quando faccio i viaggi, bello comodo e non si muove. Nella giacca ovviamente è molto più pratico, se vado in ufficio non devo stare a infilare le bretelle, quindi comunque va molto bene anche questo. Poi se volete, e il mio consiglio è quello di farlo, essere ancora più sicuri, indossate l'airbag. Questa giacca è stata studiata per essere integrata, quindi all'interno di queste, vedete, di questo velcro, di questi passaggi vengono infilate le bretelle del nostro airbag e diventa un tutt'uno con la giacca. Ovviamente sarà un po' meno areata, perderemo un po' di confort soprattutto in estate, però ragazzi ci protegge davvero bene, ci protegge soprattutto, vabbè ci protegge la schiena, ma ci protegge un'altra cosa che il paraschiena non protegge, ovvero la cervicale perché va a gonfiarsi in questa parte, quindi impedisce i movimenti del casco e le rotazioni che potrebbero generare grossi problemi. Quindi ecco l'altra cosa che mi stavo dimenticando, tasche colorate, quindi c'è la possibilità di acquistare anche le tasche colorate, tra l'altro una è caduta vado a prenderla, Nicolò mi aspetta lì, eccola qua, fluo secondo me sono molto belle, si abbinano bene con questo colore, quindi potete personalizzare la giacca in base al vostro gusto o perché no anche al colore del vostro casco o della vostra moto. Gli optional li ho raccontati, dopo vi andrò a dire anche i prezzi, per quanto riguarda le taglie, veste normale, quindi io ho una L, in questo caso il prodotto L, mi trovo davvero molto bene, tra l'altro lunghezza perfetta anche delle maniche, per le taglie andiamo dalla S alla 4XL e poi il peso, ecco per essere una giacca a livello 2 così completa, tre strati con molte chicche tecniche, nonostante questo non è pesante, 2.900 grammi nella taglia M. E adesso arriviamo finalmente ai prezzi e nel guardare i prezzi mi cade l'occhio anche sul pantalone perché questa giacca ovviamente giacca touring adventure va accoppiata o meglio si può accoppiare al pantalone che sostanzialmente ha la stessa struttura della giacca. Allora per i prezzi mi faccio aiutare dalla scheda tecnica, allora andiamo per le protezioni, quindi passiamo dall'airbag che viene venduto a 399 euro e 99 in collaborazione con Moto Airbag, quindi il mago degli airbag, poi le tasche sono vendute a 39 euro e 99 e poi abbiamo il back protector 5, eccolo qua, livello 2 mi raccomando, eccolo che protegge di più, 87 euro e 99, quello con le bretelle uguale però con le bretelle e la fascia viene venduto a 119 euro e 99, il pantalone, eccolo qua, 349 euro e 99 e infine l'ospite del giorno, quindi la Clover crossover 4WP airbag viene venduta a rullo di tamburi a 549 euro e 99. Lo avevamo detto è un prodotto top, quindi è per chi cerca un prodotto di altissimo livello con tanti contenuti, molto ben rifinita, insomma i ragazzi di Clover ci lavorano tanto, l'azienda risiede in Italia, loro sono molto attenti sia alla vendita che poi anche al servizio clienti, quindi bravi. Il sito molto completo andate a visitarlo, ci sono i prezzi di tutto, quindi non si può sbagliare, sia degli accessori, delle giacche, tra l'altro i prodotti sono descritti molto bene, quindi andate a vedere il sito perché trovate tutti i dettagli della giacca che vi ho descritto in questo momento, belli scritti come una scheda tecnica, quindi bravi. Infine i consigli, come sempre quello di continuare a seguire i nostri canali social, quindi Facebook, Instagram, Moto.it, Automoto.it, il mio Maurizio Vettor Power, già in tanti mi scrivete per dei consigli su airbag, su caschi, quindi è sempre un piacere tra l'altro. Il saluto del giorno va a Fabrizio Foddis. Ciao Fabrizio, che mi ha scritto proprio su Instagram per un consiglio, apprezzando il recensito, ha detto che ci segue sempre, quindi grazie, mi fa molto piacere. Come sempre, ovviamente, continuate a seguire il nostro canale YouTube, costantemente aggiornato di nuovi video, moto, auto, le prove, i test, l'abbigliamento, quindi c'è sempre qualcosa di interessante a vedere, la MotoGP, la Superbike, insomma, non ci si annoia. Ho praticamente concluso, però prima di salutarvi il mio consiglio. Ragazzi, andate qua sul sito che è www.clover.it, dove troverete questo prodotto, quelli che vi ho mostrato, e poi tantissimi altri capi. Ho praticamente finito, adesso rindosso la Clover WP, vado a farmi un giro con l'Africa Twin, perché poi devo prepararmi per un casco, quindi ci si vede alla prossima puntata. Ciao! Ciao!